Una buona serata, terza ed ultima edizione del nostro telegiornale che apriamo ovviamente con la cronaca e con l'incidente avvenuto questo pomeriggio sulla strada statale 150 a Basciano. Queste le foto prese dal portale web cityrumors.it, un incidente drammatico come detto a Zampitto di Basciano, una bambina di 9 anni. Diana Scarpantonio ha perso la vita in un tragico incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte anche la mamma e la piccola sorella. Per fortuna queste ultime due non in pericolo di vita. Sul posto sono prontamente accorsi sia il 118 che i vigili del fuoco. Nell'incidente sono rimaste coinvolte due auto e un camion. Come vedete appunto da queste immagini, davvero le prime subito dopo l'accaduto, nonostante l'intervento sia del 118 che dei vigili del fuoco, purtroppo per la piccola non c'è stato nulla da fare e si conferma dopo l'incidente di ieri nei pressi di San Nicolò davvero un momento drammatico per le strade. Abruzzesi. Cambiamo adesso argomento e parliamo di Marcinelle perché il presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, ha chiuso questa mattina i quattro giorni di celebrazioni per il sessantesimo anniversario della tragedia di Marcinelle, avvenuta l'8 agosto del 1956 in cui persero la vita 262 persone, di cui 60 abruzzesi. Il presidente Boldrini è stato prima a letto Manoppello, poi ha inaugurato il monumento ai caduti a Passo e Lanciano, il servizio di Francesca Romana Testi. 60 anni dalla tragedia di Marcinelle, definita la più grande d'Europa, a morire 262 minatori, tra questi 60 abruzzesi partiti per cercare fortuna e un futuro da costruire. Le celebrazioni oggi, dopo la visita della principessa del Belgio a Manoppello, si spostano a letto Manoppello, dove le istituzioni regionali depongono la corona ai caduti. Ad arrivare, in tarda mattinata, è la presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha le vedove presenti, stringe le mani e dice «lo Stato vi è debitore». Questa è la memoria degli emigrati abruzzesi che sono andati a morire per cercare il futuro in un'altra nazione. Che le ricorda? Intanto mi ricorda la sofferenza dei nostri connazionali, mi ricorda il lungo percorso che noi abbiamo fatto, mi ricorda l'orgoglio di essere stati parte integrante dello sviluppo di altri paesi, oltre che di essere poi noi diventati un grande paese. Quindi mi ricorda che dobbiamo tenere viva la memoria. Quali sono stati gli errori di Marsinello? Ma Marsinello mancavano le condizioni di sicurezza, non c'era una struttura adeguata di accoglienza di queste persone, le donne, le famiglie vivevano nelle cantine, in questi luoghi famigerati dove non c'era acqua, non c'era elettricità. Io sono stata a Marsinello nel 2013 nel luogo della miniera, ho incontrato i nostri minatori che so oggi sono anche qui presenti, queste persone anziane, queste donne che mi hanno raccontato come avevano partorito in quei luoghi, in quale condizioni disumane si erano trovate a vivere. L'Abruzzo non dimentica, i familiari delle vittime non dimenticano e la collettività assente dal profondo il dolore di questo sessantesimo anniversario. Devo dire purtroppo che negli ultimi anni si sta tornando al 1950-1960 dove moltissimi ragazzi cominciano a ritornare all'estero per trovare il lavoro. Sono tanti gli uomini partiti per trovare un futuro fuori dai confini dell'Italia e nei loro racconti emerge il sacrificio e il forte desiderio di fuggire da una povertà cupa. Perché si partiva per il Belgio, per le miniere? Perché? Eh, per la sestimazione, l'A era la possibilità a quel momento. Il trattamento a livello lavorativo com'era? Si è parlato molto di come venissero utilizzati gli italiani all'estero? Ma non è vero, non è vero, non dobbiamo dire questo. Perché? Se la persona è cattiva in Italia è cattiva anche all'estero. Se tu vai a casa di un'altra persona, se ti fai benvolere, rispetti, sei rispettato. Si lavorava in sicurezza secondo lei? Senti, alla vita non sei mai sicuro, mai, mai. Però si lavorava. A me personalmente, quando facevi certi lavori, i piedi li facevano così, tremavano per la paura. Purtroppo dovevi lavorare. Torniamo alla cronaca adesso, ma di tutt'altro tenore rispetto alla news che vi abbiamo dato in apertura. È stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Avezzano perché è evaso dall'abitazione dove stava scontando gli arresti domiciliari. Attilio D'Alessio, 52 anni, proprio di Avezzano. La scorsa notte è stato notato dai militari fuori dalla sua abitazione, su disposizione della procura. È stato arrestato e portato nel carcere di San Nicola ad Avezzano. L'uomo era stato arrestato il mese scorso per un furto e qualche mese prima, sempre mentre scontava i domiciliari per una rapina, si era allontanato dall'abitazione per comprare un barattolo di cioccolata. Anche in quella occasione fu intercettato ed arrestato. Anche quest'anno nella nostra regione invece è tornata Goletta Verde di Lega Ambiente per analizzare lo stato di salute delle acque. I dati restituiscono un panorama sostanzialmente immutato rispetto allo scorso anno quando l'Abruzzo ricevette la bandiera nera. Servizio di Alfredo. Nulle è cambiato o quasi. I dati di Goletta Verde approdata anche quest'anno in Abruzzo per analizzare lo stato di salute delle acque della regione confermano la bandiera nera. Sette punti su nuove campionati sono risultati inquinati o fortemente inquinati a nord come a sud. Male la costa dei Trabocchi che si appresta a diventare parco. Dragoni di Torino di Sangro, la penna di Fossa Cese e Acquabella di Ortona sono fuori limiti di legge. Stessa cosa per la foce del Vibrata tra Martinsicuro ed Albadriatica, per la foce del Calvano a Pineto, per quella del Cerrano a Silvi e per Fosso Vallelunga a Pescara. Ma da Pescara arriva anche una bella notizia. Con la spiaggia antistante piazza Primo Maggio balneabile seppure di poco sotto il limite. Stessa cosa per il tratto di mare antistante via Liguria a Pineto. In particolare il punto di Pescara è stato preso e campionato al limite della zona balneabile e ha mostrato una carica batterica elevata che ci racconta una criticità che è ancora presente, sulla quale bisogna agire e monitorare per fare in modo che quella situazione venga più presto risolta. Servono interventi strutturali sulle aste fluviali e sulla depurazione, dice Legambiente, che torna a chiedere un tavolo di confronto sui contratti di fiume, l'approvazione della legge sui fiumi, ma soprattutto maggiore attenzione alla cementificazione della costa e ai reati ambientali, quasi 5 ogni chilometro di costa abruzzese. Sicuramente occorre un intervento di sistema mettendo insieme più strumenti e facendo attenzione ovviamente a livello puntuale anche agli illeciti che comunque continuano a crescere nella nostra regione e che dal nostro ultimo rapporto eco-mafia corrispondono a 5 reati ogni chilometro. I dati potrebbero migliorare nel medio-lungo periodo a condizione che gli interventi messi in campo dalla regione Abruzzo per un totale di 330 milioni di euro diano gli effetti sperati. E quindi riteniamo che già in questo primo anno, nonostante si tratti di interventi strutturali che quindi possano prevedere una risposta degna nel medio termine, però già il prossimo anno dovremmo avere dei miglioramenti, così come stiamo agendo in maniera fattiva e costante sul tema degli scarichi abusivi. Passiamo alla politica adesso. Pronti all'ostruzionismo i consiglieri regionali di Forza Italia criticano il piano sociale messo a punto dal governo D'Alfonso e chiedono radicali modifiche al provvedimento. Battaglia a colpi di emendamenti e ostruzionismo, quella che annunciano i consiglieri regionali di Forza Italia, Sospiri, Febbo e Gatti. Oggetto dell'attacco nei confronti della Giunta, le proposte contenute nel nuovo piano sociale e regionale. I consiglieri di opposizione hanno criticato il documento denunciando pesanti tagli al sociale e nessuna certezza sulle risorse disponibili per i prossimi due anni. Secondo i consiglieri di centrodestra sarebbero previsti infatti tagli per 5 milioni di euro sui ticket sociosanitari. Gli emendamenti presentati puntano nelle intenzioni di Forza Italia a prevedere specifici finanziamenti regionali tesi a garantire servizi dovuti nei confronti di persone che vivono una qualunque condizione di disagio. A seguire gli interventi dei consiglieri Lorenzo Sospiri e Mauro Febbo. Un piano sociale e regionale che non c'è perché non ho mai visto uno strumento di erogazione dei servizi, tra l'altro in questo caso a categorie debole o debolissime, cioè quelle che si occupano dai minori ai portatori di handicap agli anziani soli, che non reca la copertura finanziaria ma chiede un aumento di compartecipazione ai comuni dal 20 al 30%. Il 30% di che cosa, se non ci si mette i soldi, è un piano sociale di chiacchiere. Ma noi ovvieremo a questa difficoltà perché come è noto, e grazie a voi sarà noto anche agli abruzzesi, per me possiamo rimanere tutto agosto qui fino a quando non mettono i soldi per finanziare il piano sociale regionale. Quando poi si accavalano due province, quando entriamo nei territori montani, io credo che forse qualcuno non tiene conto di questo. Non tiene conto, per esempio, che un'operatrice sanitaria deve recarsi ad una località distante 50-60 km per recarsi da una signora anziana che magari ha necessità di qualcuno che gli fa la spesa. Solo per questo servizio deve fare 50-60 km ad andare e 50-60 km a tornare. Credo che ci siano forse degli errori. Adesso parliamo del caso Ryanair perché la notizia della permanenza della compagnia low cost nell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara è stata accolta con soddisfazioni da più parti. Oggi è arrivata la nota del presidente di Confcommercio Pescara, Franco Danelli, che però sollecita uno sviluppo delle politiche di incoming. Critica invece l'opposizione che nutre dubbi sulla estensione temporale del provvedimento e che cancella l'aumento delle tasse aeroportuali. Sulla riunione di ieri con i vertici di Ryanair abbiamo ascoltato il governatore Luciano D'Alfonso. È arrivata l'ufficialità, Ryanair resterà in Abruzzo, c'è stato l'incontro a Roma, cadono tutte quelle che erano state le polemiche, soprattutto c'è anche una dichiarazione del sindaco di Alghero che dice che l'Abruzzo si è fatto trovare pronto nel momento in cui bisognava preparare i tavoli istituzionali. Io non mi vorrei trovare nei panni di quelli che hanno coltivato la sciagura. Purtroppo sono sempre meno e mi dispiace che hanno distrutto così il loro tempo. Siamo davanti a un risultato straordinario che è stato reso possibile da uno sforzo addirittura normativo legislativo nazionale che noi avevamo garantito, grazie alle parole del Presidente Renzi, del Ministro del Rio e anche dei vertici di Ryanair. Ringrazio Saga con i suoi vertici che ha avuto una condotta straordinaria, riporto le parole di Ryanair nei confronti anche della Regione Abruzzo, ha detto che abbiamo avuto una condotta da intraprenditori, da imprenditori della decisione, così come voglio mettere in evidenza che riparte un programma di investimenti che non si limita alla conferma di ciò che c'era. Noi continueremo a lavorare sulla connettività aerea, ferroviaria, stradale, navale e lavoreremo anche a Bruxelles affinché tutto il quadro normativo venga revisionato. Come si è risolto la questione degli aiuti di Stato? Attraverso il rispetto della legge e il giusto dosaggio economico. E' stato firmato nel pomeriggio di ieri il protocollo di intesa tra il Comune di Chieti e il Demanio per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie. L'avvio di una collaborazione Stato-Territorio finalizzata alla riqualificazione e valorizzazione di immobili e aree urbane non utilizzate in stato di abbandono è l'obiettivo del protocollo di intesa che nel pomeriggio di ieri è stato siglato presso il Comune di Chieti, dal direttore regionale Abruzzo e Molise dell'Agenzia del Demanio Edoardo Maggini e dal sindaco di Chieti Umberto Di Primio. L'intesa consentirà al Comune di Chieti, promotore della richiesta di finanziamento, di partecipare al bando promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del programma straordinario per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie. Con la firma dell'accordo, l'Agenzia del Demanio si impegna a supportare il Comune nella strutturazione del progetto Masterplan Periferie Chieti. Il Comune ha progetti da presentare entro il 29 agosto per 10 milioni di euro, tre gli ambiti urbani di intervento previsti dal protocollo di intesa. Nel primo ambito si prevede l'ampliamento dei parcheggi pubblici in piazza Falcone Borsellino, traduzione 200 posti auto in più a ridosso del centro con relativa riqualificazione del sistema di collegamento pedonale, ovvero la scala mobile. Nel secondo, la riqualificazione dell'area di piazza San Giustino, la realizzazione di nuovi arredi urbani e contestuale spostamento dell'attuale parcheggio pubblico, via le auto ai piedi della cattedrale e automobilisti dirottati verso il parcheggio che nascerà dall'ampliamento di quello a valle servito dalla scala mobile e presto anche dal tunnel pedonale. L'ambito di intervento 3E porta invece dall'altra parte della città, nell'isolato ex caserma Berardi, dove sono in progetto la costruzione di un parcheggio semi-interrato, la sistemazione della viabilità interna con la costruzione di un collegamento trasversale carraio, la realizzazione di un parco e l'ottimizzazione dei parcheggi a raso a servizio degli uffici che si andranno ad insediare nella struttura. Infine la riqualificazione dell'area ex scuola media Vicentini, che sarà destinata ad attrezzature sportive e ricreative a servizio delle scuole. Rimaniamo a Chieti, dove la Camera di Commercio mette a disposizione degli utenti un nuovo servizio attraverso l'organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Agevolare piccoli imprenditori, ma anche commercianti e semplici consumatori nella gestione e soluzione delle crisi da sovraindebitamento. E questo è il compito dell'organismo istituito dalla Camera di Commercio di Chieti, che dal 1 settembre sarà chiamato proprio a risolvere tutte quelle situazioni in cui persone o imprese, o perché abbiano perso commesse il lavoro, o perché non abbiano più reddito ed utili sufficienti, non sono più in grado di onorare il proprio debito. Di affrontare le crisi da sovraindebitamento delle società che per dimensione non possono accedere ai concordati, dei professionisti e delle famiglie che per questioni eccezionali e non prevedibili hanno un debito che non riescono a restituire e che quindi attraverso questo organismo possono accedere ad una formula analoga, per semplificare, a quella del concordato preventivo delle aziende di capitali. Qual è la situazione tra le aziende rispetto a questa tematica, quella del sovraindebitamento? Il tema del sovraindebitamento è un periodo di crisi e un problema drammatico. E poi nelle imprese appunto non di capitali questo ovviamente va a colpire il patrimonio personale. Il procedimento si suddivide in quattro fasi e si avvia con il deposito dell'istanza di ammissione alla procedura in cui il gestore della crisi comunica al debitore il grado di complessità dell'operazione e le indicazioni sugli oneri ipotizzabili. Poi la proposta e il piano possono prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma e devono essere depositati presso la Cancelleria del Tribunale. A questo punto il giudice monocratico emetterà un decreto di omologa o di rigetto del piano una volta omologato. L'accordo diviene obbligatorio nei confronti di tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità della proposta e del decreto di ammissione alla procedura anche se dissenzienti. Potrebbe essere messa in vendita privati l'area su cui insiste la scuola media di Sassa inagibile dai tempi del sisma del 2009 che ha colpito l'Aquila. Giace abbandonata da anni esattamente dal dopo terremoto senza un minimo di delimitazioni o lucchetti e con i vetri degli infissi rotti che permettono l'accesso a chiunque. Parliamo della scuola media di Sassa all'Aquila rese inagibile dal terremoto. Ora via in fuori che dal momento che un polo scolastico verrà costruito ex novo altrove l'area in questione potrebbe essere messa in vendita dal comune dell'Aquila a privati. Parliamo di un terreno che circa 50 anni fa fu espropriato ai proprietari per consentire la realizzazione della scuola pubblica. Per ora si tratta di una voce non confermata e tra l'altro nel piano di alienazione delle opere non esiste questa voce ma di certo questa possibilità che lo ribadiamo ci impone il condizionale sta scatenando l'ira degli abitanti di Sassascalo che invece chiedono che l'area resti pubblica magari demolendo la scuola e creando un piccolo parco per la gente che al momento non ha neanche una piccola area verde che deve sopportare ogni giorno macchine che percorrono le strade a velocità elevata, immondizi e abbandoni selvaggi nelle oasi di raccolta e anche il recente piano delle ferrovie che stanno realizzando un sottopassaggio proprio in zona Sassascalo a passaggio a livello con i disagi che ne conseguono e ne conseguiranno oltre al depuratore di scoppito che rende l'aria irrespirabile nella stessa zona. Il CPT, il Consiglio territoriale di partecipazione ha sempre detto che l'area dovrà restare invece pubblica ma la voce che gira incontrollata è che invece il comune voglia vendere per acquisire un terreno a Sassapaese e realizzare lì il grande parco urbano. Soldi per due parchi non ce ne sono ovviamente allora a Sassascalo potrebbero sorgere nuove case private togliendo ai cittadini per sempre la possibilità di avere una zona verde che sarebbero anche disposte ad adottare e curare. In quella zona, allorché il comune non volesse farci il nuovo plesso scolastico ebbene avrebbe dovuto ripristinare la funzionalità della palestra che è agibile ed è stata classificata A. Demolire invece il resto della struttura che è stato classificato E per realizzare un parco e delle attrezzature assolutamente sostenibili dal punto di vista economico e gestibili per la manutenzione, a vantaggio chiaramente dell'intera comunità. Intanto il comitato STSA che sta seguendo il progetto delle ferrovie e a finora con i tecnici di zona ha collaborato con il CTP sviluppando soluzioni più plasibili per rendere più vivibile la zona, dice la sua. Il caso di Sassascalo è da noi con particolare attenzione osservato e monitorato anche in virtù delle precedenti esperienze di collaborazione ovviamente come cittadinanza attiva con il CTP di Sassa che in questi mesi ha svolto un lavoro egregio anche se troppo spesso è stato ignorato dalla pubblica amministrazione e in questo caso dal comune. Ci spostiamo a Teramo adesso dove ci sono nuovi sensi di marcia in centro storico per i lavori di restyling in Corso San Giorgio. Assessore continuano i lavori per il restyling di Corso San Giorgio, cambieranno adesso dei sensi di marcia? Sì, via Cerullirelli non si permette più l'imbocco sul Corso in quanto diventa cantiere e di conseguenza adesso c'è l'obbligo di utilizzare quella rotonda che abbiamo appena finito di costruire sia per le autovetture ma anche per gli autobus, quindi il percorso è stato modificato già da ieri, da alcuni giorni è modificato, abbiamo posto la nuova cartellonistica e da lunedì il cantiere prosegue in avanti e quindi andrà a chiudere in forma definitiva quella strada appunto finché i lavori rimarranno. Ci siamo con i tempi? I tempi ci siamo, chiaramente portiamo dei ritardi dovuti appunto ai ritrovamenti che ci sono stati lungo il corso, i lavori, adesso abbiamo avuto il via libera, sulla parte destra ormai stiamo andando velocemente cerchiamo di liberare i negozi prima possibile, sul lato sinistro abbiamo delle prescrizioni queste prescrizioni purtroppo ci rallentano un pochettino e quindi aspettiamo ancora gli uffici aquilani e pescaresi delle belle arti per appunto che ci diano il via libera in forma definitiva. Un percorso di 110 chilometri di fede attraverso le tradizioni e la cultura del territorio, sono circa una ventina le persone che hanno preso parte al percorso turistico religioso il Cammino Teramano. Partito ieri dal Santuario della Madonna dello Splendore di Giulianova, i pellegrini arriveranno al Santuario di San Gabriele della Dolorata domenica 7 agosto. Veramente con enorme soddisfazione che salutiamo questa seconda edizione estiva del Cammino Teramano, sta ormai diventando una tradizione, è una cosa sempre più radicata, sempre più conosciuta e che sarà particolarmente utile a tutto il movimento del turismo religioso, direi di tutto l'Apruzzo, non solo del Teramano, perché è una cosa che sta andando veramente ben oltre a quello che è lo spilto del pellegrinaggio per coinvolgere veramente tutta una movimentazione turistica e religiosa. La nostra regione è bellissima, soprattutto guardate questo posto dove siamo questa mattina incantevole e che vive anche di turismo, di turismo religioso, in maniera particolare la nostra provincia e quindi siamo qui a rappresentare l'importanza di questo evento, di essere a fianco a tutte quelle che sono le molle economiche della nostra economia, soprattutto in maniera particolare quella che riguarda il turismo, soprattutto in un periodo estivo e in una città bella come Giulianova e in uno di quei posti più belli forse che abbiamo oggi in Abruzzo. Adesso passiamo davvero a tutt'altro argomento perché sarà una settimana di ferragoso davvero bollente ad Alba Adriatica, va infatti in scena dal 10 al 16 agosto la settima edizione di Eros Adriatica. Sette serate con esibizioni hard di attrici di livello nazionale e internazionale, ad Alba Adriatica torna l'appuntamento con la decima edizione di Eros Adriatica che è messo diventato ormai un punto di riferimento nell'estate della riviera abruzzese. Sono i miei dieci anni di attività come spettacoli, sono dieci anni che conosco lui e quindi domani con dieci anni insieme non potevamo mancare. Quindi sì, è un evento appunto dell'Eros Adriatica, si svolgerà dal 10 al 16 agosto, Viale, Lungomare, Marconi. Queste belle donne attraverso lo spettacolo, attraverso l'erotismo comunicano col pubblico e questa è una cosa bellissima. E in questo periodo dove tutto va male, terrorismo eccetera, noi portiamo veramente delle bombe ad alto tasso erotico. Quindi veniteci a trovare perché ci sarà veramente tanto movimento e soprattutto tanto Eros. Parliamo adesso di sport, apriamo la pagina dello sport ovviamente con il Pescara che ieri sera ha fatto suo il Memorial dedicato a Pier Mario Morosini. Una serata particolare perché dall'altra parte c'era il Vicenza e c'è stato uno scambio di maglie. Il Pescara ha giocato in bianco rosso, il Vicenza in bianco azzurro rinnovando uno dei gemellaggi più antichi della tradizione calcistica italiana. Intanto il Delfino è ancora molto attivo sul mercato. Una gara particolare che strappa un sorriso ai tifosi del Pescara. Il Memorial Morosini nella cornice del Menti di Vicenza mostra i progressi della squadra di Massimo Otto che si impone per 1 a 2 sul campo dei Veneti rinnovando ancora un gemellaggio tra i più antichi della tradizione calcistica italiana e che porterà nella composizione delle terze divise da gioco a scambiarsi i colori per una stagione esattamente come hanno fatto ieri sera. Bianco azzurro per il Vicenza, bianco rosso per il Delfino. Peraltro in una serata nella quale il ricordo dello sfortunato giocatore del Livorno, morto proprio lo stadio adriatico, aleggia forte. Per il resto il Pescara vince e lo fa giocando meglio soprattutto nella prima frazione quando nel giro di 5 minuti tra il 23esimo e il 28esimo di fatto chiude già la pratica e i sorrisi vengono dalle punte. L'apertura è affidata a Manai che batte Benussi sugli sviluppi di un corner e si conferma attaccante e temibile già in palla. Il raddoppio parte ancora dall'albanese che si procura il rigore che Caprari trasforma. Nella ripresa molti cambi, Otto rivoluziona la squadra e i Veneti accorciano le distanze a 7 dal monnovantesimo grazie a Siega che di testa batte Aresti. Sul fronte mercato invece rimane vivo l'interesse espresso in primis dal presidente Sebastiani su altri due giocatori scuola Inter, Yao e Nukuri, con i nerazzurri che in cambio potrebbero strappare una promessa per Verre. Chiaro che il doppio affare Biraghi-Caprari apre un canale privilegiato con Piero Ausiglio, ma nelle ultime ore si sono intensificati i rapporti con il Visla-Kracovia per il difensore classe 1987 Richard Guzmix, calciatore nel giro della nazionale ungherese. Operazione prossima alla chiusura, già domani potrebbe rifare la firma del giocatore. Scegliamo adesso in Lega Pro perché oggi era il giorno tanto atteso del Consiglio federale che avrebbe dovuto decidere i ripescaggi e ce ne sono stati 11 compresa la Paganese riammessa dalla sentenza del Tar del Lazio. Il Teramo c'era attesa per sapere con le compagne di viaggio dei biancorossi. Il Teramo è nel girone B come preventivato insieme a Parma e Venezia. Finalmente i gironi di Lega Pro sono una realtà. Nel pomeriggio il Consiglio federale ha ufficializzato i ripescaggi per poi procedere alla composizione dei raggruppamenti per chi aspira alla cadetteria. L'unica abruzzese, il Teramo, come prevedibile è stata inserita nel gruppo B, quello del nord-est, con una divisione verticale dell'Italia, almeno dall'Abruzzo in su, che pone il diavolo in un girone difficile. E come? Con gli uomini di Zauli, il Parma principale favorita alla vittoria finale, il Venezia di Pippo Inzaghi, ma non solo. Ma è ancora un raggruppamento monco perché, nonostante il Tar del Lazio abbia riammesso la Paganese proprio nelle ultime ore e il ripescaggio di Fano, Melfi, Fondi, Lupa Roma, Olbia, Racing Club Roma, Forlì, Taranto, Regine e Vibonese, incredibile ma vero, siamo ancora a 59. E nel girone del Teramo c'è ancora una X. Per il completamento dell'organico, il Consiglio ha conferito delega al Presidente federale, d'intesa con i presidenti della Lega Pro, della LND e dell'AIC. E allora bisognerà ancora aspettare per sapere chi sarà la ventesima squadra. Ma a dispetto di qualche voce proveniente da Firenze e che nei giorni scorsi parlavano di un rimescolamento geografico, il Consiglio ha deciso di tenere tutto come nelle previsioni. Per i biancorossi dunque ci sarà da soffrire. C'è la San Benedettese con cui si rinnoverà un duello che sta di Serie D di qualche anno fa. Zauli ritrova il Sant'Arcangelo ma occhio anche a Padova e soprattutto Reggiana. Trasferte lunghe a Bolzano col Sud Tirol, a Pordenone, a Lumezzane e a Salò contro la Feralpi. È tutto pronto o quasi? Manca da decidere quale squadra andrà al posto della X e poi via con il sorteggio dei calendari. Fischio d'inizio il prossimo 28 agosto. E sempre a proposito di Teramo, oggi i biancorossi erano impegnati nell'amichevole al Bonolis contro l'Alba Adriatica. Vediamo com'è andata nel servizio di Andrea Costantini. Un Teramo parsimonioso regala solo un gol ai suoi tifosi. Nella prima partita della nuova stagione giocata al Bonolis contro l'Alba Adriatica a squadra di eccellenza abruzzese il diavolo si impone di misura. È stato comunque un buon galoppo utile al tecnico Zauli per dare minutaggio ai giocatori non impiegati in Team K ad Alessandria. Ancora assente Ilari mentre il capitano Ivan Speranza non ha partecipato all'amichevole ma si è allenato a parte prima della partita. Nota lieta del pomeriggio è stato Davide Peterman. Il centrocampista romano ha realizzato il gol partita al nono con un magistrale sinistro carico d'effetto che si è infilato all'incrocio dei pari imparabile per l'estremo Albenza e Spinelli. Peterman ha deliziato i circa 700 tifosi terramani presenti con lanci e conclusioni dalla distanza che fanno intravedere le indubbie qualità del suo sinistro. Il meglio il Teramo lo ha fatto vedere nei primi 20 minuti con Petrella ispirato in versione di assistman ma con Forte tornato a disposizione dopo gli acciacchi dei giorni scorsi in preciso sottoporta. Nel secondo tempo ha iniziato la consueta girandola dei cambi. I ritmi sono scesi ancora di più e il risultato di 1-0 non è cambiato. In sala stampa buona parte delle attenzioni erano comunque rivolte alla composizione dei gironi così il tecnico D'Amberto Zauli. Ci sono 6-7 squadre attrezzate da vertici oltre a Parma-Venezia ci sono Reggiana, c'è Feral Pissalò, c'è Padova, insomma tante squadre che sono costruite per fare un campionato di assolutissimo valore. Però è un bel campionato, incontreremo formazioni importanti, gloriose e quindi per noi sarà uno stimolo in più per cercare di essere protagonisti in questo campionato. Resta la voglia di fare almeno i play-off? Sì, noi non dobbiamo porci dei limiti, noi dobbiamo cominciare, cercare di migliorare sempre di più, giocarci come si dice partita dopo partita, crescere come squadra, crescere l'autostima, crescere la qualità del gioco e far sì che diventeremo la squadra comunque difficile da battere. Questo è il nostro intento oggi che siamo ancora i primi d'agosto, nonostante un girono molto competitivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.